Allora questa frizione, facciamo una prova. Vediamo un po' se tu riesci a tirare questa frizione con la mano tua. Ti cade il telefono, non è colpa mia. Ti riesci? No, a parte che sono corta. Allora ogni tanto io faccio un trattamento alla frizione perché questa frizione è su un cavo. Questa qui è una bilancia. Siamo un rasoio. Adesso andiamo a misurare quanti chili di forza servono per tirare la frizione. Vado a tirare. Tiro adesso la frizione. Che c'è scritto? 8,50. 8,50 kg per tirare il cavo della frizione. Vedi qui c'è il cavo, qui dentro c'è la frizione. Io tiro la leva. Vedi cosa si tira? Questa qua. Devo prima sganciare il cavo. Ecco, vedi? Il cavo è libero. Ok, adesso io devo staccare il cavo da qui sopra. Qui c'è la via d'uscita. Eccolo qua, vedi? E ce l'abbiamo libero. Classico di 40. Una silinga. Ne prendiamo un po'. Questo ha tanta schiuma. Però, piano piano. Scusi. Poi che ti ridi? Io sto soffocando e tu ridi. Cioè, voglio dire. Basta, che dici? Andiamo un'altra. E io che ne favo? Basta così. Poi andiamo su. Eccolo qua. Mettiamo dentro. Ma non fa schiuma. No. Spariamo dentro la guaina. Ho messo un po' troppo. Ecco. Così. Grazie, mi è tozzata tutta. Sì? Sì. Ok. Grazie, mi è tozzata tutta. Ha ha. Ho messo pure troppo. Adesso l'abbiamo silingato qua. Lui sta scendendo. Adesso noi lo lasciamo tutta la notte così. Un po' di grasso idrorepellente. Sta inquadrando. Un po' la messo qua steso qui sopra. Questa qua deve entrare qui. Eccolo. Così. Aiuto. Vedi il cavo, è attaccato adesso. Ah ha. Questo si vede la notte lì. Poi. Qui dentro. Arrivinciamo. Allora, abbiamo messo il VD40 da sopra. E vabbè. Durante la notte scende dentro la guaina e esce da qui. Se non metto questi P, ci ritroviamo il motore allagato da VD40 domani mattina. Poi domani mattina facciamo di nuovo la misurazione di quanta forza ci serve per tirare il cavo. Adesso, che abbiamo appena messo il VD40, facciamo già una misurazione perché già la differenza si sente. Va bene. Ok, 7, vabbè, 8, non ce l'ho più. 7,30. Cede a 7,30. Cede a 7,30. Vedi, 8,30 non ce l'ho più. 7,30. 7,30. Vabbè, c'è un chilo, sei andato. Infatti, domani dovrebbe migliorare ancora. Ah, provatelo. Tu come lo senti? Non ce l'ho mai di prima. Isoliamo di nuovo. È passata tutta la notte. Vediamo. Non mi aspetto miracoli. Io mi allontano leggermente per sicurezza. 5,8, 6. Eh, diciamo, siamo scesi sotto i 6. Soddisfatti? Pensavo meglio. Hai una faccia depressa. No, pensavo meglio. Però sotto la mano la sensazione è come fosse di più. Ciao! Ho preso peso. Grazie.